Quella che sta iniziando è una settimana importante per la scuola perché potrebbero arrivare novità significative su diverse questioni. Intanto si dovrebbe finalmente sapere qualcosa di preciso sui concorsi per i docenti, visto che da più giorni la stessa ministra Azzolina sta ripetendo che i bandi sono ormai pronti e che manca soltanto la sua firma, anche se i sindacati per parte loro stanno cercando di ottenere un piano di assunzioni con un concorso per soli titoli. Operazione che ha il sapore della sanatoria ma che potrebbe essere anche l'unica via percorribile per evitare che a settembre il numero delle cattedre vacanti arrivi al record storico delle 200.000 unità. E sulla posizione dei sindacati ci sono anche la Lega e lo stesso sottosegretario all'istruzione, Peppe De Cristofaro Di Leu. Altre novità potrebbero arrivare anche dal Senato, dove si sta discutendo il decreto legge su valutazione ed esami di Stato, che contiene però anche la contestatissima disposizione sul blocco delle graduatorie di istituto, che non piace neppure ad una parte della maggioranza di governo. E non a caso su questo la ministra ha già detto che il Parlamento è sovrano e che non è un dramma se deputati e senatori dovessero decidere di modificare anche radicalmente la norma voluta da lei. Intanto ci avviciniamo sempre di più alla fine del mese ed è ormai certo che la ripresa delle elezioni a maggio, prima o dopo la fatidica data del 18, resta una illusione e basta. Ma è proprio sul tema della riapertura delle scuole che si sta aprendo un ampio dibattito, che vede coinvolti un po' tutti, dai sindacati alle forze politiche fino alle associazioni. La CISL scuola per esempio parla di un protocollo chiaro e preciso da mettere in atto quando a settembre si ripartirà. Ci vogliono, dice la segretaria nazionale Maddalena Gissi, un comitato nazionale, ma anche tanti comitati locali, uno in ogni singola istituzione scolastica, per monitorare con attenzione le misure di sicurezza e le modalità di svolgimento delle attività in presenza o a distanza. Anche l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, si sta muovendo e sottolinea che le attività produttive potranno riprendere solo a condizione che venga assicurato il servizio scolastico in presenza, soprattutto per le fasce di età più basse. Pedagogisti e psicologi dell'età evolutiva invitano intanto a non sottovalutare le conseguenze che una chiusura troppo prolungata delle scuole può avere sui bambini e su questa linea si stanno muovendo anche diverse associazioni di genitori. Il tema è delicato e complicato, la soluzione potrebbe arrivare forse dalla task force di più di 100 esperti che la ministra Azzolina ha deciso di attivare per ottenere proposte e suggerimenti sui numerosi problemi sul tappeto. Ovviamente il tema è di grande interesse per tutti, quindi continueremo a tenervi informati su questo canale. Voi continuate a seguirci, ma seguiteci anche sulla nostra testata www.tecnicadellascuola.it soprattutto continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni, i vostri interventi, le vostre proposte e noi ne daremo conto come sempre.